Ha ricordato di attivare la registrazione sul proprio computer e lei ha ringraziato Britta. All right, so welcome everybody, my name is Britta, I live in Tuketown, benvenuti, il mio nome è Britta. Britta, we cannot hear you for a reason. I can't believe myself. It's a problem, okay. All right, so I restart. Hello everybody, my name is Britta, I live in Cape Town, South Africa, together with my husband Thorsten, since 2005. I'm very grateful to host today's session and later also translate teacher Yuan Tong Liu sharing and healing meditation into German. Sono molto grata di questa occasione al maestro Liu e alla guarigione, alla meditazione di guarigione e al fatto di poterla tradurre anche in lingua tedesca. E oggi è entrata come co-host anche un'altra persona, forse Cristina, che vive a Mali. We are honored that teacher Yuan Tong Liu is facilitating today's session for the world healing with the focus on Africa. E siamo onorate di presentare il lavoro del maestro Liu per questa sessione di guarigione dedicata all'Africa. Sono sicura che molti di voi abbiano già sentito parlare del programma Non ho sentito bene il nome e il programma di cui loro fanno parte. Teacher Yuan Tong Liu and myself have created the Hu Nian Qi therapy program in 2015. Ah, ok. Hu Nian Qi è un programma di guarigione Hu Nian Qi e lei insieme al maestro Liu l'hanno creato nel 2015. È una terapia dello Hu Nian Qi basata sulla scienza dello Xi Nian Qi Kung e che coinvolge le persone in tutto il mondo. E questo è il motivo per cui sono molto felici di fare questa guarigione oggi, di condividere questa guarigione oggi. Perché uno dei propositi di questo gruppo, del loro gruppo, è quello proprio di fare la guarigione, di guarire se stessi, la propria famiglia, il proprio paese. E adesso invito a Cristina a presentare benamente se stessa. E adesso invito a Cristina a presentare benamente se stessa. Questa è una persona che vive in Mali, West Africa, da 8 anni. E vive da 8 anni in Africa e lei è un'artista svizzera. E da 3 anni si è unita al gruppo, a questo gruppo di terapia Hu Nian Qi insieme a Britta e al maestro Liu. Being part of this amazing community has changed my life profoundly in such a powerful, positive and healthy way. E questo progetto, questa comunità ha cambiato profondamente la sua vita e anche i progetti, il modo di vedere la vita. Anche il fatto di vivere lì in Africa ha contribuito a questa profonda trasformazione in lei. Ed è rimasta molto impressionata, colpita dall'apertura del cuore delle persone che ho incontrato lì sin dal primo giorno. La buona umore e la grande gratitudine per la vita è molto ispirata. Ed è molto grata per la vita, che è così una grande fonte di ispirazione. E quindi ha fatto, sta creando proprio la struttura fisica dove fare la pratica. La pratica ecco, un luogo di pratica. Si sentono anche i colpi dei muratori. Grazie. 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 Grazie, Cristina. Grazie, Cristina. Siamo molto grati anche a Orit e Ronit per averci invitata a prendere parte a questo progetto di guarigione del mondo. E prima di lasciare la parola al maestro Liu, due parole per presentarlo. Grazie. 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 A presto. Grazie. Grazie, tack. Grazie. Grazie. Il Centro Guasha per dieci anni. Ha tradotto diversi libri del Dottor Pang in inglese. E' anche il chief editor del Chinen Qigong Worldwide Magazine. Ed è anche l'editore della rivista Chinen Qigong. Teacher Liu is the founder of many organizations. E' il fondatore anche di molte organizzazioni. Such as his own LifeCi Center in Meishan, China. Come il suo centro personale in China. Il programma di classi masterclass. Il programma di consciousness program. Il programma di Hun Yang Chi Therapy Program. Il programma della terapia. Il programma di cambiamento della vita. Il programma di vita online. Il programma di cambiamento della vita. Il programma di nuove programma della vita. Non ho capito da quale anno ma ha iniziato a girare per il mondo, a viaggiare. Per divulgare la scienza, la bellezza, la conoscenza dello Chinen Qigong e anche della terapia dello Hun Yang Chi. E ha fatto tutto questo per accompagnare, per dare supporto alle persone durante il viaggio della guarigione. E adesso lascio passo la parola al maestro Yuan Tong Liu. Grazie. We will wait one minute, I have to fix something and then we will continue, okay? Great, thank you. Thank you. Thank you so much. Can you hear me, Will? britta you are in the german room now so we cannot hear you you're a translator now and teacher you can come you can continue please hello everyone i'm so happy to join the meeting really thankful to ronit and orit to this beautiful organization when i'm first to join your organization you know a lesson i really realized is so meaningful you know that this way is really measured with the rest of time of my life intention e questo è quello che lui vuole vuole fare per il resto della sua vita quello di appunto portare avanti questo programma as a britta just introduced me to you all you know i'm start practice during qigong at 1984 e io ho cominciato a studiare xinian qigong nel 1984 in 1992 i'm working in huaya center until center closed in 2001 e dal 1992 ho lavorato nel centro hua sha fino a quando non è stato chiuso ovvero nel 2001 also i meet my beautiful wife matsu xie also in hua xia center we married in hua xia center dr pang to the wedding ceremony for us as well wow e lui ha conosciuto la sua bellissima moglie anche lì nello hua sha center nel centro hua sha e il dottor panga celebrato le loro nozze now when i really received this program you know organized by ronit and orit big team i'm really touched my heart thank you so much no because my family did a great benefit from jenichu science in the future i can share more i only can post one one information to you i say if without jen chi gong practice me my daughter will not come to the earth also this is the reason when my daughter get a birthday day that day i set up clear intention for the rest of the time of my life that is use the rest of the time of my life to share and spread the alternative science to the worldwide help more people as more as possible when i really receive this uh the invitation that you know to share about this healing idea um help the africa in our land also the worldwide are ready to see you know when we do a healing healing in what what should be held how do to do the healing i think we our journey is a holistic healing 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 the world healing the leader killing body heart so killing everything E lui pensa che la risposta è nello Zin Yen Qigong, perché lo Zin Yen Qigong guarisce la natura, guarisce il corpo, l'anima, i pensieri, guarisce qualunque cosa. Come si può fare la migliore guarigione? Come si può dare la migliore guarigione? E nella sua esperienza di vita lui può condividere quella che è stata la sua idea, la sua esperienza proprio personale. E la risposta è aprire completamente il proprio cuore e la propria mente. Cuore a cuore, mente a mente. È un modo per bilanciare, non mi ricordo la parola che ho usato prima. E che quando noi aiutiamo qualcun altro ne beneficiamo tutti. In questo modo ne possiamo prendere consapevolezza delle illusioni della vita e anche però delle... ... 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 Ci concentreremo sulla terra dell'Africa, ma allo stesso momento lavoreremo su tutta la terra, su tutti i paesi della terra. Io ci credo molto perché il mondo è un'unica famiglia. E noi diciamo che la terra è un unico villaggio, one heart, one community, la comunità ha un unico cuore. Let us bring these ideas, heart man to man together, to do our huoyuanji healing journey together. Quindi questa mente a cuore a cuore guiderà la nostra pratica e il nostro percorso di guarigione. Today I would like to introduce an idea for City of Huoyuanji Field Healing together through chanting huoyuan lingtong to sending the best, you know, positive, upright, has information to Africa, to Middle East, to, you know, all, you know, place, all the countries on this planet. E quindi vuole usare il campo delle informazioni anche dello huoyuan lingtong per mandare le migliori informazioni all'Africa, al Medio Oriente e a tutto il mondo. Huoyuan lingtong è la pratica, l'essenza delle pratiche nella scienza dello Zinian Qigong. Huoyuan lingtong è la pratica, l'essenza delle pratiche nella scienza di unico cuore. Huoyuan vuol dire unione, tutto insieme, un intero, un integro. Huoyuan is talking oneness, wholeness, and the source. Huoyuan, non ho capito, la sorgente. Huoyuan, queste due parole insieme hanno due big meanings. Huoyuan, first is, you know, unite and integrate into oneness. Ok, il primo è, tutto è integrato in uno. Another meaning is, merge it and transform it into a brand new oneness. E l'altro significato è che tutto si unisce e si trasforma in un nuovo uno, una nuova unità. We left the Huoyuan Qi, you know, according to our intention, to change, to transform, bring a brand new world to our human being society, to the nature, to this planet. Huoyuan Qi vuol dire anche mettere insieme, trasformare e creare un nuovo mondo, un nuovo mondo per la nostra società degli esseri umani. E portare gioia, amore, saggezza, alla nostra società umana, gli esseri umani. Ling vuol dire che la nostra intenzione si è già manifestata, è diventata reale. E' come quando un miracolo avviene, avviene un miracolo. Tung, really, you know, unblocked, really become a one, you know. Tung, tutto si sblocca, tutto veramente diventa uno. Insight, outside, become one, unblocked. Diventa uguale, senza confini, senza blocchi. Ling, huon, yuan, ling, tong, there are only the best, positive, and upright information. E quindi, huon, yuan, ling, tong, è solo il meglio delle informazioni, le più luminose delle informazioni. Quando noi facciamo questa meditazione, quando noi facciamo questa meditazione, quindi proviamo dire huon. da l'unico dell'unico è dalla gioia, diventa d'intercetta unico, dal centro di herum, amore dell'unico e dell'аменio e del tuore, in unico e del quando, in oneness. You know, with very honest humble heart. Un cuore veramente onesto. When we chanting Yuan Song, everyone consciously collecting, gathering the abundant primordial of Hun Yuan Qi and the best positive and upright information from the universe, from human beings society, you know, and the changing sound worldwide, Hun Yuan Qi field, inward, into our group, Qi field, into deeps inside of you. And so, all the best information, information of justice, of happiness, all the best information from the universe enter into us. really experiencing in the energy and the information in the human society and our group also within our own self is really shifted you know shifted to the positive priority of life with brand neutral life in peace you see joy happy harmony central center so diventa giusto diventa potente diventa migliore then chanting the sound of lean you know from bottom of your heart and mind we see from your unt consciously sending the best holistic instruction of our intention to ourself out to our human being society to the nature healing the land you know of the you know whole world i like south africa and whole africa mid east east west you know hold the world with our heart blessing e attraverso il suono lean noi portiamo queste informazioni di guarigione in profondità all'interno della della terra che vogliamo guarire non solo dell'africa ma anche del mido del medio oriente dell'occidente di tutto tutto quanto il mondo mandiamo proprio queste profonde informazioni di guarigione the last words tone sound e adesso l'ultima parola il suono della parola tone when we turn in tone sound you know we really to experiencing inside outside you know you with everyone everything under nature already already merging into one brand new brand new oneness become brand new oneness our intention is already hundred percent you know get successful manifested ton e quando l'interno e l'esterno non c'è più separazione quando si è veramente un'unica cosa quando non ci sono blocchi e quindi tutto è realizzato e questa idea di hu nguan lintong cambia con la meditazione e questa idea di hu nguan lintong cambia con la meditazione also i give advice is when we really together chanting hu nguan lintong sounds everyone you can turn on your microphone we use a group sound of vibration vibrating you know the hu nguan lintong of our group during qi nguan sound worldwide vibrating the qi field of the whole universe with our best information e quindi provando a dire questo hu nguan lintong ognuno con il microfono attivato e contribuirà a mandare le informe le migliori informazioni nell'universo ad a potenziare il campo di qi con queste vibrazioni molto potenti all right let's us do together now proviamo adesso a farlo tutti insieme adesso please sit down upright why do i want to do it on it? ah ok so i allow everyone to honor themselves quindi adesso stanno permettendo di disattivare cioè di riattivare eventualmente l'audio per poter partecipare ah did you learn we need to say that we let everybody unmute themselves but if for a reason there is a noise so they have to mute themselves again ok? yes ok first we organize a few we start chanting everyone can you know turn on microphone we vibrating together with the hu nguan lintong sound ok ok so we let everybody do it ok al momento organiziamo il campo di c poi dopo verranno sbloccati i microfoni per poter far vibrare la frase hu nguan lintong tutti quanti insieme e nutrire ancora il campo di c please look your speed forward guarda un punto davanti a te focalizza lo sguardo in un punto davanti a te porta la vista indietro e lentamente chiudi gli occhi porta la vista indietro e lentamente chiudi gli occhi si sente una interferenza si sente una interferenza si sente una interferenza peicati 일단 e preğaze ma è quindi il corpo è lady l'inore tutto il corpo è il ridotto da quahweido fino al perineo tutto il corpo è il ruolo da quahweido fino al piede Dal centro del cuore espandi, partendo through its tissues, organs, layers of body out into the space surrounding you. Continua ad espandere dentro il campo di C, continuo ad espandere dentro il campo di C, continuo ad espandere dentro il campo di C. Continua ad espandere l' Rocky60, continuo ad espandere start. Continua ad espandere la mente, continuo ad espandere la mente, e continuiamo ad allargare il nostro campo di chi e diventare tutto intorno a noi e diventare un unico campo di chi e continuiamo ad espandere e ad accogliere le informazioni all'interno all'interno del campo di chi del mondo immaginiamo il professor e il Dr. Pang stando in fronte di noi che ci guida e mentre manda le migliori informazioni che ci guida e mentre manda le migliori informazioni tutti i migliori maestri, tutti i più grandi maestri sono tutti presenti e stanno mandando le migliori informazioni al nostro campo di chi il nostro campo di chi sta lavorando per migliorarci e per guarirci e sta continuando a guarire la natura e la nostra società e sta continuando a guarire la natura e la nostra società e guariamo tutti il nostro corpo e la nostra mente e andiamo sempre più in profondità dentro il nostro corpo e il nostro corpo e il nostro chi E adesso apriamo, apriamo ancora. Il nostro corpo si trasforma in un corpo di qi. Il nostro corpo di qi diventa sempre più grande e si fonde al campo di qi globale. Our guru qi field is you, you are the guru qi field. We are one in the qi. We together through chanting huya lingtong to sending best healing information to blessing the nature, human society, and all people on this planet. E adesso usando il suono, la frase huya lingtong, mandiamo le migliori informazioni per guarire la natura, la società degli esseri umani e tutto quanto. First, listen to me three times. Afterwards, everyone can turn on the microphone. We are chanting together. Allora, per prima cosa lo diciamo tre volte, dopodiché... Teacher, I'm sorry, but we cannot unmute everyone because there are too many people. So they will do it in the houses and we can only hear you, please. Okay? Okay, no problem. Sorry. Ho detto che non si può fare perché siamo in troppi ad accendere il microfono di tutti. E quindi ognuno di noi sentirà, lo farà, però ognuno di noi sentirà solo lui. Allora, iniziamo. Adesso iniziamo. Ho chi Interessante». Ho chi é-ho chi. Ho chi è-ho chi è-ho chi. Aum. 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 o 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 apri completamente il cuore e la mente portiamo dentro tutte le migliori informazioni mandiamo le migliori informazioni di guarigione o 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 All right, everyone, close eyes, from bottom heart opening out to our group chi feel. All right, everyone, close eyes, from the world wide chi feel. Our human being society chi feel. Different countries on the planet. Apriamo, apriamo, cantinenti. Also open up to chi feel of the whole universe. Apriamo anche le braccia al campo di chi dell'universo. Calmly, happy and joyfully, call it gathering the abundant fresh chi with fresh positive information inward, sinking our planet. Mandiamo tutte le migliori informazioni dentro, pensiamole dentro il nostro pianeta. La nostra società da tutte le parti del mondo, tutti i paesi, tutti i continenti. E dal profondo del nostro cuore mandiamo le migliori informazioni di benedizione, di pace a tutto il nostro pianeta. Mandiamo informazioni di resilienza, di armonia, una parola, una famiglia. One village, una terra, un villaggio. One heart, one community. Un cuore, una comunità. One life, one source. Una vita, una sorgente. Un cuore, un cuore, un cuore. 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 E adesso poggiamo le mani sopra il nostro ombelico e manteniamo questa attenzione all'interno. Usiamo la mente all'interno del dantien inferiore. Il qi all'interno è pieno e plentiful. Entire body is nourishing by qi. E tutto il nostro corpo è nutrito dal qi. E facciamo esperienza e apprendiamo che noi siamo diventati un'altra parte della vita, un altro pezzo di vita. Lentamente separiamo le mani e riapriamo gli occhi. E dal profondo del suo cuore ringrazia di noi. All right. Haola. Thank you. Haola. Grazie. Grazie a tutti. 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 Graciainteressiой. It's a tutti. Grazie a tutti. Una combina di noi. Odiscono aiหนasi di male. Grazie alle figlie. Grazie a tutti.